A me lo so vieni, il cuore di garzò, a me a me Cari amici di canale San Matto Salerno, benvenuti in questo nuovo video Siamo quest'oggi nell'ottava puntata della storia dei Santi e quindi ci stiamo avvicinando purtroppo, o per fortuna per alcuni al termine di questa terza stagione nella decima puntata annunceremo i Santi della quarta stagione che ci sarà sicuramente l'anno prossimo Quest'oggi ancora non sa una santa parliamo di una santa che conosciamo tutti quanti sicuramente Santa Teresa del Gesù Bambino e del Volto Santo detta di Lisie, Santa Teresa di Lisie Santa Teresa di Lisie, facciamo prima chiaramente un'inquadratura alla santa, nel senso, vediamo un attimo un profilo dopodiché poi andiamo a vedere la sua storia della completezza Santa Teresa di Lisie, al secolo Marie Theret-Martin nacque ad Hélène Cohn il 2 gennaio del 1873 e morì a Lisie il 30 settembre del 1897 è stata una carmelitana francese beatificata il 29 aprile del 1923 da Papa Pio XI fu proclamata santa dallo stesso Papa il 17 maggio del 1925 quindi solo due anni dopo è patrona dei missionari dal 1927 assieme a San Francesco Saverio e dal 1944 insieme a Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria e a Santa Giovanna d'Arco e a Giovanna d'Arco patrona di Francia la sua festa liturgica ricorre il primo ottobre o il 3 ottobre data originariamente stabilita e ancora rispettata da chi segue la messa trentina del rito romano quindi dovrebbe essere il primo di ottobre per noi che seguiamo il nuovo sordo come viene chiamato quindi non la messa trentina ma sempre il rito romano cioè quello che usiamo sempre a messa quando ci andiamo il 19 ottobre del 1997 nel centenario della sua morte fu proclamata dottore della chiesa terza donna terza donna a quella data a ricevere tale titolo dopo Caterina da Siena e Santa Teresa Davila l'impatto delle sue pubblicazioni postume tra cui storia di un anio pubblicata poco tempo dopo la morte le sue tari è stata di grande rilievo la novità della sua spiritualità chiamata anche teologia della piccola via o dell'infanzia spirituale ha ispirato molti credenti e profondamente colpito anche molti non credenti quindi davvero una grande santa e quindi non perdiamoci in chiacchiere sigla camminiamo sulla strada che ha percorso i santi tuoi tutti ci ritroveremo dove eterno spende il sol e quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà che ci fosse un posto per me c'è chi dice che la vita sia tristezza sia dolore ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà e quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà la colpa che ci chiamerà ci chiamerà ci chiamerà oh signor come vorrei che ci fosse un posto per me il giorno che il giorno che la terra e il cielo la nuova vita risorgerà il sol si spegnerà il sol si spegnerà oh signor come vorrei che ci fosse un posto per me eccoci tornati allora adesso andiamo dopo questa breve introduzione a leggere la storia nella biografia di Santa Teresa di Gesù Bambino il padre di Teresa Luis Martin nacque a Bordeaux nel 1823 e morì a Lisie nel 1894 era un orologiaio la madre Maria di El Guarri Martin nacque a Galealdin nel 1831 e morì a Le Alencon nel 1877 chiamato anche Zelie era rinomata fin dal 1850 come merlattaia esperta del noto guonto di Alencon e creò una piccola impresa con produzione familiare che occupava una ventina di operaie lui avrebbe potuto far parte dei canolici regolari della congregazione ospedalica del Gran San Bernardo Valais Svizzera ma per sua insufficienza conoscenza del latino fu inviato a rappresentarsi dopo aver sopperito alle sue lacune dopo un anno e mezzo alle lezioni private però dovete abbandonare il progetto anche Zelie avrebbe dovuto entrare in convento nelle figlie della carità di San Vincenzo de Paoli ma una sua richiesta in tal senso verso il 1850 venne scoraggiata sempre in relazione a problemi di salute Zelie soffrì per tutta l'età infatti tutta l'età giovanile di forti mal di testa e di disturbi respiratori così e la promessa a se stessa che se fosse sposata avrebbe donato nei limiti del possibile i suoi figli alla chiesa lui e Zelie si conobbero nel 1858 sul ponte Saint Leonard del Colón Alencon sul fiume Sarte e dopo un breve fidanzamento si sposarono il 13 luglio del 1858 nella basilica di Notre Dame di Alencon ebbero nove figli dei quali quattro seguenti morirono entro la prima infanzia si chiamavano Maria Alenée Marie Joseph Louis Marie Joseph Jean Baptiste Marie Malanithere cinque figli ragionessero l'olica adulta tutte femmine e poi tutte diventate suore Marie che divenne Marie che divenne suora carmelitana Alessier con il nome di suor Marie du Sacre Corps scusatemi per il mio francese che morì il 19 gennaio del 40 prima genita Pauline che nacque nel 61 anche lei suora carmelitana con il nome con il nome di madre Teresa di Jesus Leonie nell'ordine delle clarisse di Santa Chiara poi visita di Nina a Ken con il nome di suor franco 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 terzo genita celine celine anche suora carmelitana lì era chiamata suor gineve della saint fes ter anche suora carmelitana suor Teresa santa Teresa del bambino e Gesù sarebbe poi et della saint fes morì il 30 settembre 1897 e fu canonizzata nel 1925 Louise Martin e Marie Alessier Guerin sono stati congiuntamente beatificati il 2 ottobre del 2008 e canonizzati il 18 ottobre del 2015 Teresa nacque il 2 gennaio del 1873 ad Alaincon ligno francese lo dico di nuovo lo dirò in tutta questa bontata dialogata ma anche in studio perché penso di averlo già detto parecchie volte lo dirò parecchie volte anche alla fine in Normandia da Louis Martin e Marie Aliseguerine Martin detta battesata due giorni dopo nella basilica di Notre-Dame D'Alecon 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 ebbe per padrino Paul Paul figlio di un di un amico di famiglia e per madrina la propria sorella maggiore Marie entrambe tredicenni a verità di due mesi Teresa soffre di enterite sembra per le difficoltà l'adattamento in sorte dopo la forzata interruzione dell'allattamento naturale della madre e si teme addirittura per la sua vita viene allora chiamata sul consiglio del medico una nutrice Rose Tile che era già impiegata dai congi Martin per i due figli maschi Marie José Louis e Marie José Jean-Baptiste morti in tenedissime età dalla quale pone la condizione di potersi occupare della bambina al proprio domicilio nella fattoria di Semaglie distante 8 km dall'Encon Teresa vi resterà un anno superando la crisi e rimettendosi in buone condizioni tornando a casa la sua famiglia è capace di camminare da sola vivace ed espansiva è fonte di continua gioia per i genitori e le sorelle ma è molto emotiva è soggetta a frequenti crisi di pianto il padre la chiama la mia reginetta ed è ovviamente ricambiato con l'appellativo di mio re è capace di provare sentimenti più elevati di quelli solitamente provvede bambini della sua età in particolare spesso generosa anche se capita di fare i capricci di bisticciare con la sorella Céline quella alla più vicina come età solo tre anni di differenza ed avere qualche piccola vanità sua madre direi in seguito che Teresa è di un'intelligenza superiore a quella di Céline ma molto meno dolce e soprattutto di una testardaggine quasi invincibile quando dice no niente la può far cedere cresce in una famiglia di devoti cattolici i genitori assistono ogni mattina alla messa delle cinque e mezza e si attengono scrupolosamente di giugno alle preghiere secondo i tempi dell'anno liturgico i colegi Martin hanno saputo costruirsi negli anni con il loro lavoro una situazione economica molto florida ma trovano il tempo di dedicarsi anche alle opere caritatevoli accogliendo quando se ne dà l'occasione gli andanti e assistendo malati e anziani la personalità di Teresa da bambina presenta molto presto degli aspetti singolari in parte riconducibile all'ambiente familiare profondamente improntato alla devozione così la gioca a farla la suora e si sforza di fare piacere a Gesù e si preoccupa di sapere se egli sia contento di lei un giorno arriva addirittura ad augurare a sua madre di morire sgridata spiega che lo ha detto perché desidera che lei possa così raggiungere più presto la felicità del paradiso si racconta che una sera la futura santa osservando nel cielo stellato la costellazione di orione sia felice di notare alcune stelle che formano una t esclamando con gioia che il suo nome è scritto in cielo nel 1865 Zilli si scopre un nodulo dolente al seno non ne è preoccupata e considera l'ipotesi sottoporsi a un intervento chirurgico era forse già i primi segni che il tumore al seno che la porterà alla morte 12 anni dopo solo nel dicembre del 76 1876 chiaramente un medico le rivela la gravità della malattia quando è troppo tardi per tentare un'operazione e il 24 febbraire del 77 un anno dopo Zilli perde sua sorella maggiore Marie-Louise che è morto per colosi al convento della visitazione di La Manza dove aveva preso il nome di Suor Marie Dositè nel giugno nel giugno del 77 scusate parte per Lourdes in pellegrinaggio nella speranza di ottenere la guarigione o comunque un aiuto per affrontare le difficoltà della sua condizione muore il 28 agosto dello stesso anno dopo una lunga agonia rimasta così orfana quattro anni e mezzo Teresa rilevò in seguito che la prima parte della sua vita si era fermata proprio quel giorno sua sorella Pauline fu allora da lei scelto come vicemadre il 16 novembre del 77 lui e le sue 5 figlie si trasferiscono a Lisier per avvicinarsi a Isidor Guérin fratello di Zilli e alla sua famiglia conforme al desiderio manifestato a Zilli prima di morire questo in precedenza era stato nominato cotutore di nipoti per accogliere la famiglia Martin Isidor e la moglie hanno trovato una casa borghese circondata da un parco Boisonez scusatemi per il mio francese al momento dell'arrivo della famiglia Martin la città è rinomata per la bellezza delle sue case di legno delle facciate scolpite e decorate per la cattedrale di San Pietro del XII secolo e dei suoi mercati è una città manifatturiera la più importante del Calvatos con circa 300 imprese a circa 18.000 abitanti dati del 1874 ovviamente la crisi del settore tessile al fine del XII secolo farà sprofondare la città nel barasma economico lo zio di Sidor farmacista Alisier è politicamente attivo monarchico convinto difende Papa Leone XII e gli sviluppi della dottina sociale della chiesa lui Luis invece che ha ceduto l'attività commerciale a condizione familiare di Alencon e vive solo delle sue rendite si dedica totalmente alle figlie in particolare a Teresa che porta spesso con sé a passeggiare nel grande giardino che circonda la casa familiare o né di intorni Marie che ha 17 anni prende in mano le redini della casa con l'aiuto di una domestica mentre Pauline che ne ha 16 si occupa dell'educazione e dell'istruzione anche religiosa delle tre più piccole Leonie Celie e Teresa quest'ultima risente profondamente dei cambiamenti intervenuti nei vittimi della sua giornata l'animazione della bottega di Alencon sempre piena di clienti succede l'atmosfera raccolta della grande dimora dove a parte i parenti e in particolare le cugine e i figli di Dorguerin siedono altre poche persone scriverà Teresa cito testualmente a partire dalla morte di mamma il mio felice carattere cambiò completamente io così viva così espansiva divenne timida e dolce sensibile fino all'eccesso fine citazione nonostante l'amore che che le prodicheranno suo padre e Poline e Giovi con le sorelle e le cugine la sua condizione di vita lascia ovviamente una traccia malinconica nell'animo di Teresa che più tardi ebbe indicare il periodo dell'infanzia seguito dalla morte della madre come il più doloroso della vita fino ad allora trascorsa a otto anni e mezzo il 3 ottobre del 1881 Teresa entrò nel pensionato delle Benedettine a Lisier ogni sera faceva ritorno a casa essendo il pensionato vicino al domicilio familiare le lezioni di Poline e di Marie le avevano dato delle buone basi e fu presto tra le prime della classe tuttavia è questa nuova esperienza che scopre la vita collettiva dalla quale non era preparata non riesce a legare con le compagne più grandi che aveva fatto incelusire il suo malgrado con il suo buon ritenimento scolastico e piange spesso anche se si impone di non lamentarsi non si trova bene nell'animazione delle ricreazioni la sua istruttrice la descrive con un bambino obbediente calmi e silenzioso a volte malinconica Teresa affermerà più tardi che quei 5 anni furono i più tristi della sua vita e che in quel periodo non trova non trovava conforto se non è la presenza della sua cara Céline Teresa vive consolivo e ritorno ai Boysonnet la sera dopo la scuola i giovedì e le domeniche sono da lei attesi con impazienza con sua cugina Marie Guilin inventa un nuovo gioco vivere come degli eremiti in un angolo nascosto del giardino la partenza di Pauline per il adesso andiamo a vedere la partenza di Pauline per il Carmelo e il viaggio a Parigi quindi apriamo in questo momento una nuova sezione della storia della Santa e fino a questo momento è molto interessante ma lo sarà anche in seguito chiaramente nel corso dell'estate del 1882 Teresa viene improvvisamente a conoscenza del fatto che la sua sorella Pauline sta per entrare al Carmelo la prospettiva di perdere la sua seconda mamma la porta alla disperazione avendola appreso per caso questo fu come un macigno si fosse abbattuto nel suo cuore Pauline cercando di consolarla descrive la vita di una carmelitana Teresa inaspettatamente voglia il senso profondo di quanto le viene spiegato esiste anche se chiamata la vita del Carmelo scriverà cito testualmente sentivo che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che io andassi a nascondermi sentivo che questo con così tanta forza da non avere il minimo dubbio del mio cuore non si trattava di un sogno di qualcuno ancora in età infantile che si lasci trasportare ma era proprio la certezza di una chiamata divina volevo andare al Carmelo non per Pauline ma per Gesù solo fine citazione durante le vacanze di Pasqua del 1883 Louis Martin organizza un viaggio a Parigi con Marie e Leonie mentre lo zio Sidor Guerin accoglie a casa proprio Céline e Teresa e Teresa il 25 marzo sera di Pasqua durante la cena si evocano i ricordi di Zilin Teresa si abbandona allora a un pianto incontenibile la si deve mettere a letto e passa una notte molto agitata al punto che lo zio all'indomani fa chiamare un medico questi davanti alla gravità dei disturbi osservati in Teresa manda un telegramma a suo padre che fa il ritorno immediatamente a Parigi da Parigi Teresa continua per alcune settimane a manifestare sintomi preoccupanti come tremori convulsioni allucinazioni delirie e fobie il padre le sorelle e tutta la famiglia vivono la propria con grande angoscia temendo che Teresa stia per impazzire o rischia addirittura la vita si ricorre allora alla preghiera anche Teresa lo fece evolgendosi con fiducia alla Madonna per chi abbia pietà di lei la Vergine le dà un giorno una risposta facendole vedere il suo incantevole sorriso e guarendola aveva dato tutti i suoi disturbi dopo la guarigione e dopo una lunga e accurata preparazione sotto la guida della sorella Marie Teresa fa la sua prima comunione poi parlè un giorno di felicità piena nel quale si offrì completamente a Gesù per appartenere a lui per sempre il mese successivo fece la cresima e in quel giorno sentì la forza di soffrire quasi presaga che il martirio dell'anima e del corpo sarebbe stata la sua strada in uno slancio eroico disse o Gesù dolcezza ineffabile trasforma per me in amarezza tutte le gioie della terra ebbe in seguito mentre ancora frequentava gli studi all'abbazia delle Benedettine emicrani e scrupoli per cui fu tolta dall'istituto e mandata a lezioni private ma l'aspettava la terza prova la sorella Marie che dopo l'entrata in convento di Pauline l'aveva seguita nella sua formazione scolastica e la religiosa entrava anche all'Enel Carmelo Teresa si sentì sola senza con forte guida le rimanevano il padre e Céline e Céline si rivolse allora agli angioletti i fratelli e le sorelle che non aveva mai conosciuto perché la liberasse dall'ansia degli scrupoli fu completamente esaudita per prudenza si prolunga la convalescenza di Teresa fino alle vacanze estive che sono l'occasione per lei di lasciare Alice e di fare la sua entrata nel mondo per la prima volta ritrova a Lencon e i luoghi della sua prima infanzia ma anche la tomba della madre dappertutti i Martin sono ricevuti dagli amici di famiglia la buona borghesia dell'encon la riconquista della serenità contribuisce un nuovo ospite entrato a far parte della famiglia e il cane tombra è stato a Teresa dal padre il 26 giugno del 1884 nel 1885 Teresa si prepara a quella che in quei tempi chiamavano la seconda comunione durante il ritiro dell'abbate vittor lui domin insegnante religioso presso l'abbazia delle benedittine di cui Teresa era semi convittrice insiste in modo particolare sui peccati che non si devono commettere nel modo più assoluto i peccati mortali che nell'ultimo giudizio ci costeranno la morte dell'anima le pene dell'anima che avevano tanto tormentato Teresa e che sembravano essere scomparse si risvegliavano bruscamente la ragazza già così fragile si addombra di nuovo credendosi in stato di peccato si sviluppa un forse senso di colpa a proposito di tutto per di più non osa confidarsi con Pauline che le pare così distante nel suo Carmelo non le resta che confidarsi con Marie la sua ultima madre ed è lei che ormai racconta tutto compresi i pensieri più stravaganti che le passano per la testa questa aiuta a preparare le sue confessioni lasciando da parte tutte le sue paure tale modo di procedere ha però come effetto di nascondere il suo disagio ai suoi confessori privandolo così dei suoi consigli dei loro consigli e ora andremo a vedere un altro dato della vita di Santa Teresa dopo questi scrupoli Teresa seguì per circa due mesi sul quotidiano La Croix lo svolgimento del processo Enrico Pranzini che aveva assassinato tre donne Teresa in una sorta di sfida personale contro il male quasi per provare la solidarietà della fede la solidità della sua fede il 13 luglio dell'87 giorno della condanna di Pranzini prese come compito quello di convertire del grande criminale rivolgendo in questa azione di preghiera anche sua sorella Selin gli sforzi di Teresa furono ricompensati quando apprese dal giornale La Croix che il 31 agosto sul patipolo Pranzini aveva per due volte dopo il primo di iniego abbracciato il crocifisso in punto di morte Teresa si sente ormai pronta ad entrare nel Carmelo di Lisie e ne ha anche immaginato la data il 25 dicembre dell'87 il giorno dell'anniversario della sua conversione sente ugualmente che dovrà superare numerosi ostacoli e pensando forse a Giovanna d'Arco si dichiara deciso a conquistare la fortezza del Carmelo con le armi prima di tutto deve ottenere il consenso della sua famiglia soprattutto di suo padre determinata ma timida esita davanti a lui a convidare il suo segreto anche perché Louis Martin ha subito ha subito qualche settimana prima un attacco che l'ha lasciato paralizzato più ore più ore il 25 maggio dell'87 dopo la Pentecoste il giorno della Pentecoste dopo aver pregato tutto il giorno si presenta la sua richiesta gli presenta la sua richiesta la sera nel giardino della casa di Boi Sonnez lui lui le obietta alla sua giovinezza ma si lascia presto convincere la sua figlia aggiunge che Dio gli fa un grande onore di chiedere le sue figlie le sorelle più grandi la pensano in modo diverso ma lei cerca di differire la decisione diversamente e Pauline le incoraggia Céline che soffre di più da una possibile partenza e sua sorella la sostiene ugualmente ma un ostacolo si presenta nell'ottobre dell'87 lo zio Sidor l'autore delle figlie Merton pone il suo veto sul progetto della nipote prudente il farmacista di Lisie teme che che cosa si dirà e se non teme in dubbio la vocazione di Teresa le chiede di attendere almeno di compi i 17 anni il giovane fiducioso nonostante tutto si confida a Pauline ma dal 19 al 22 ottobre prova per la prima volta nella sua vita eredita interiore questa notte profonda dell'anima la disorienta tanto più avendo ricevuto così che tante grazie dopo Natale all'età di 14 anni Teresa decise quindi seguendo l'esempio di Santa Teresa Davila di farsi monaca sebbene le monaca del calmelo avessero dato il loro parere favorevole e il padre con qualche difficoltà anche lo zio avessero dato l'autorizzazione per la giovane età trovò l'obiezione del parroco di Saint-Jacques Saint-Jacques il canonico Jean-Baptiste della Troiette che la consiglio di rivolgersi al vescovo nella varia dell'87 il vescovo di Bayeux le negò il permesso e lei intraprese con il padre lui e la sorella prediletta se lì un viaggio a Roma per rivolgersi per rivolgere questa sua richiesta direttamente a sua santità il Papa Leone XIII nell'87 per il giubileo per i 50 anni di sacerdozio del Papa Leone XIII le diocesi di Contestes di Bayeux e di Lisier organizzano un pellegrinaggio a Roma dal 7 novembre al 2 dicembre vedo dal vescovo Contene Avranse Abel Anastè Germain scusatemi del mio francese lo ripeto non sono bravo anzi non l'ho mai studiato il francese c'è al viaggio partecipa un gruppo di 197 pellegrini tra cui 75 preti e i Marten in assenza del vescovo di Bayeux e di Lisier Flavien Abel Antoni c'è l'abbate Marcien José Levori suo vicario generale che lo rappresenta lungo il percorso tra le altre città Teresa fa sosta a Firenze presso il convento di Santa Maria Maddalena dei Pazzi in Borgo Pitti L'appuntamento che è fissato a Parigi Louis Martin approfitta l'occasione per far visitare la capitale le sue figlie e durante una messa a Nostra Signora delle Vittorie Teresa è infine liberata dall'ultimo dei sui dubbi è proprio la Vergine che le ha sorriso e le ha guarita la sua malattia cinque anni prima Teresa le affida allora il suo viaggio e la sua vocazione un terreno speciale li conduce in Italia dove aver attraversato la Svizzera la giovane non smetti di ammirare i paesaggi che scopre durante il viaggio ed è cosciente di tutto ciò che dovrà rinunciare per sempre sicura che entrerà nel Carmelo cito testualmente mi dicevo più tardi nell'ora della prova quando prigioniera del Carmelo non potrò contemplare che una piccola porzione di cielo mi ricorderò di ciò che sto vedendo oggi fine citazione a Roma la mattina del 20 novembre dell'87 giunge il momento tanto atteso dell'udienza del Papa l'unitreticismo dopo la messa celebrata nella cappella pontificia il vicario generale del vescovo di Bayer ed Elisi è presente i componenti del gruppo al pontificio facendo loro spesso di vieto di parlargli dato che era un po' affaticato nonostante ciò Teresa venuto il suo turno segnò l'occhia piangendo davanti al pontificio dicendogli Santissimo Padre ho una grande grazia da domandarvi e il vicario spiega che si tratta di una ragazza che vuole entrare nel Carmelo bambina mia fate quello che vi diranno i superiori dice allora il Papa Teresa lei però insiste Santissimo Padre se voi diceste di sì andrebbe bene a tutti Papa Pecci replica allora andiamo andiamo entrerete se il buon Dio lo vuole ma Teresa supera ancora spera ancora in una risposta conclusiva e rimane in attesa davanti al Papa con le mani giunte sulle sue ginocchia devono intervenire due guardie per accompagnarla all'uscita sulla via di ritorno all'inizio il vicario generale più venitico cambia il proprio orientamento attendista sulla richiesta di Teresa e promette di appoggiarla qualche mese dopo il 9 aprile dell'88 a poco più di 15 anni Teresa assume il nome di Teresa del Gesù Bambino in seguito integrato con l'aggiunta dalle parole del Volto Santo il suo nome completo da religione è dunque Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo il postulato di Teresa comincia con la sua entrata al Carmelo il 9 aprile dell'88 dopo eh 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 no tanto osteggiata dal canonico della Troiette ma auspicata alle suori eh li presenti tra cui Marie de Gonzaga de Gonzaga Teresa deve qui abituarsi a uno stile di vita ben più austero eh con i sospetti e confrontarsi con i sospetti che possono tirare su di sé troppe attenzioni essendo ormai tre sorelle Martin con suora Agnè de Gesù Pauline e suora marito Sacre Cor Marie ricostruire il Carmelo con la testa comunità familiare dei Bois Sonez il monastero l'accoglie come priora madre Marie de Gonzaga che resterà in tale carica fino al 20 febrile del 93 quando quando le subientra Maria madre Agnè de Gesù al secolo poi le sorelle di Teresa conosce quella che era considerata la fondatrice del Carmelo di Lisier madre Genevieve del sante re al secolo la libertà il 10 gennaio del 89 al luogo la cerimonia di presa dell'abito Teresa percorre nel braccio del padre lui la madre della chiesa del Carmelo il padre appare in discrete condizioni ma un mese dopo il 10 febbraio è la crisi il stato confusionale credendo di trovarsi in un campo di battaglia e gli impugna una pistola creando una situazione pericolosa è chiamato in tuttafretto il suo cugnato di Sidor Quirin che riesce a disarmarlo due giorni dopo il medico che è stato chiamato ha costatato la gravità della situazione e decide l'internamento di lui in ospedale psichiatrico del Bonne-Sauve-Rolle a Canet scusatemi per il francese ci resta tre anni meravigliando il personale con la sua gentilezza e la sua lucidità durante i suoi luoghi lunghi momenti di lucidità e dando testimonianza della sua fede egli accetta la situazione con coraggio e rassegnazione so perché il Bon Dio mi ha dato questa prova non avevo mai avuto un'immigrazione durante la mia vita avevo bisogno di averne una le sorelle Martin che hanno sempre avuto grande affetto e devozione per il loro padre sono costrette a sopportare per l'episodio commenti malevoli Teresa resta in silenzia appoggiandosi alla preghiera lettura della Bibbia l'analisi grafologica fatta molti anni dopo dalle sue lettere e la mostra in uno stato di grande tensione a tratti sull'orlo del tracollo il 24 settembre del 90 a 17 anni e mezzo suor Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto del Volto Santo pronuncia i suoi voti soleni diventa definitivamente una carmelitana questo giorno di gioia e di realizzazione per la giovane è però interamente velato di lacrime tanto piange l'assenza di suo padre infine il 10 maggio del 92 e la sua prova finisce il padre Teresa è portato via dell'istituto di Canet dove era ricoverato vecchio lui è più può rincontrare le tue tre figlie carmelitane nel parlatoro per la prima volta da quattro anni sarà anche l'ultima è lucido ma molto dimagrito e non parla lo portano dai guerini dove c'è Céline e Leonie aiutate da una cameriera e da un domestico si occupano di lui perché non cammina più gli anni che seguono sono quelli della maturazione della vocazione Teresa prega senza grandi emozioni sensibili ma con fedeltà evita anche di mischiarsi nella dialettica interna alla comunità di monache che talvolta turba la stessa vita comunitaria preferendo di stare in disparte e invece moltiplichi i piccoli atti di carità di attenzione verso altre monache rendendo dei piccoli serviti senza segnalarlo accette in silenzio le critiche quelle che possono essere ingiuste e sorride alle consorelle anche quando maldisposte verso di lei nel 93 madre marie necosè giunse al termine del suo secondo mandato consecutivo di priorato non può dunque ripresentarsi Pauline su Ragnate Gesù che è letto il 20 febbra del 93 per i successivi tre anni la situazione non è delle più facili per Pauline e per le sue sorelle Maria de Gonzaga intende comunque esercitare la sua influenza in fu lo stesso canonico Jean-Baptiste della Troie superiore del Carmelo di Lisie esorta pubblicamente Madre Agnès a lasciarsi consigliare dell'ex priora Pauline dovrà comunque mostrarsi particolarmente diplomatica inoltre non deve dare un'impressione di favoritismi verso le sue sorelle marie su sacro coro e Teresa madre marie de Gonzaga conserva allo stesso periodo l'ufficio di maestra nelle novizie e la priora madre Agnès affida a Teresa l'incario di coadiuvarla come vice maestra il 24 giugno del 93 Leoni entra nel monastero delle visitandine di Canet durante l'estate del 93 a lui viene portato lui viene portato portato al castello della Musse una grande tenuta in campagna nei pressi di Evro che è stata ereditata dal cognato Isidore Guerin Nel 94 è celebrato il centinaio del martirio delle carmelitane di compigne all'epoca non ancora abbiate 16 monache carmelitane scalde 11 monache due converse due suore esterne e una novizia giustiati il 17 luglio del 94 doveva rifiutato di rinunciare al voto monastico nel contesto della rivoluzione francese questo avvenimento ha una grande ripercussione in tutta la vita della Francia e ancor di più nel carmelo di Elisi i religiosi del carmelo di compigne chiedono alle consolere di Elisi di contribuire alla decorazione della cappella le condizioni di saluto del padre Teresa peggiorano il 27 maggio del 94 subisce un grave ictus che lo lascia con il braccio sinistro paralizzato il 5 giugno arriva una crisi cardiaca malgrado il suo stato di salute ci cerca di dargli un po' di conforto portandolo alla musa all'inizio di luglio l'amore il 29 luglio del 1894 in presenza della figlia Selin e sepolta Alisi il 2 agosto dello stesso anno chiaramente il 14 settembre Selin raggiunge le sorelle entrando al Carmelo di Lisie Teresa entrata nel Carmelo con il desiderio di divenire una grande santa ma già alla fine del 94 al termine di 6 anni di vita Carmelitana si trova costretta a riconoscere che questo obiettivo è praticamente impossibile da raggiungere ha ancora numerose imperfezioni non ha il carisma di Santa Teresa d'Avila di San Paolo e di altri grandi santi soprattutto essendo molto volenterosa sapete bene i limiti di tutti i suoi sforzi sentendosi piccole ben lontana da questo amore senza difetti che le dovrebbe praticare comprende allora che è su questa parte su questa piccolezza stessa che può appoggiarsi per domandare l'aiuto di Dio nella Bibbia il versetto tratto dai proverbi capitolo 9 versetto 4 4 se qualcuno è piccolo che venga a me le offre un principio di risposta lei che si sente così piccola e incapace può così rivolgersi a Dio con fiducia ma allora che cosa accadrà? un passaggio del libro di Isaia le offre una risposta profondamente incoraggiante come una madre ha caretti i suoi bambini così io vi consolerò io vi porterò sul mio seno e vi colerò sulle mie ginocchia Teresa giunge alla conclusione che sarà lo stesso Gesù che le innazzerà le sue mecime della santità l'ascensore che deve innalzarmi al cielo sono le vostre braccia Gesù per giungere tale scopo non potrò divenire grande al contrario occorre che io resti piccola e che divenga ancora di più la piccolità di Teresa i suoi limiti divengono così motivi di gioia piuttosto che di scoraggiamento proprio perché nei suoi limiti nei suoi limiti che si va ad esercitare l'amore mi si ricorda su di Dio per lei i suoi manoscritti Teresa dà questa intuizione teologica il nome di piccola via e a partire dal febbraio del 95 inizia a fermare regolarmente le sue lettere rivolgendosi aggiungendo di piccolissima prima del suo nome fino a quel momento Teresa impiegava il vocabolario della piccolizza per richiamare il suo desiderio di una vita nascosta e discreta a partire da questo momento lo utilizza anche per manifestare la sua speranza quando si si può sentire piccola davanti a Dio tanto più potrà contare su di lui è proprio durante questo periodo che Teresa incomincia su richieste della madre Agnese a scrivere dei suoi ricordi comincia ugualmente nella sua composizione di brevi opere teatrali e di cantici di più il più conosciuto è vivere d'amore all'interno della chiesa cattolica la via teresiana dell'abbandono a Dio è nota come uno stato di infanzia spirituale questa cosiddetta via dell'infanzia spirituale piccola via petite voie è stata considerata dal martillo roggio romano come uno specifico insegnamento nella santità e lei stessa spiegarla nei seguenti termini allora qui potrei leggerla in francese ma ve la leggo in italiano scusatemi voglio cercare il mezzo di andare in cielo per una via ben dritta molto breve una piccola via tutta nuova siamo in un secolo di invenzioni non vale più la pena di salire gli scalini delle case dei ricchi un ascensore li sostituisce vantaggiosamente vorrei anche io trovare un ascensore per innalzarmi fino a Gesù perché sono troppo piccola per salire la dura scala delle imperfezioni dal manoscritto C al capo decimo riprende e approfondisce il paragone io c'è braccio Gesù sono l'ascensore che mi deve innalzare fino al cielo per questo io non ho affatto bisogno di diventare grande bisogna anzi che rimanga piccola che lo diventi sempre di più la piccola via vuole vuole e là io non ho bisogno bisogno di grandire a contrarire le faute che restate petite che ho diventato del plus e plus e plus la piccola via la piccola via vuole anche indicare non più solo la consitudine spirituale epicamente appariscente bensì pure l'esercizio erotico delle virtù cristiane radicato alla vita quotidiana citazione fatta dal manoscritto B versetto 3 il 9 giugno del 95 in occasione della festa della Santissima Trinità Teresa era un'improvviso ispirazione di offrissi vittime di olocausto all'amore misericordioso era ad uso infatti a quell'epoca presso alcune religiose di offrirsi vittime alla giustizia di Dio la loro intenzione era di offrire di soffrire in magia del Cristo in unione con lui per supplire alle penitenze che non facevano i pecchiatori nell'ottobre del 96 Teresa contrasse la tubercolosi nel giro di 18 mesi la portò alla morte in questo periodo subì una crisi profonda dalle stesse chiamata notte della fede durante la quaresma del 96 Teresa segue rigorosamente gli esercizi spirituali e i digiuni le notte tra il giovedì santo e il venerdì santo è vittima di una prima emottisi lo segnala a madre Maria di Gonzaga esistendo tuttavia sul fatto che non soffre e che non ha bisogno di niente una seconda crisi si ripete la notte seguente questa volta la tuberola si preoccupa seriamente e autorizza al marito della cugina di Teresa Maria Elisa e Jeanne Guerin e il dottor Francisque Lucien supplice dell'anel a visitarla che si ipotizza che il sanguinamento sia stato causato dalla rottura dei vasi capillari della gola ma Teresa non si fa illusione sull'andamento e la sua salute senza peraltro provare alcun timore semmai accade il contrario poiché la morte ai suoi occhi la permetterà ben presto di andare da quel cielo che ritroverà colui che essa è venuto a cercare al Carmelo la sua gioia giunge così al suo apice potrà pertanto a partecipare a tutte le sue attività del Carmelo senza risparmio alcuno delle sue forze questo periodo difficile anche un periodo di notte della fede durante la settimana santa entra improvvisamente in una notte interiore il sentimento di fede che la animava da tanti anni l'ispirazione che la faceva vibrare dal morire d'amore per Gesù sono scomparsi forse definitivamente di lei ormai nel buio si sembra di ascoltare una voce interiore che sembra prendersi il gioco di lei e della felicità che lei attende con la morte mentre invece la sua voce mentre invece la voce avanza sì ma solo non è perso la notte del nulla i suoi combattimenti interiori non vertono sull'esistenza di dio ma sulla stessa credenza di una vita eterna in lei si fa strada ormai un'impressione sentita morirà giovane e pernuente questa prova non le impedisce tuttavia di proseguire nella sua vita di monaca carmelitana e solo i cantici e le poesie che continua a comporre su richieste le consorelle lasciano intravedere questo combattimento interiore ad esempio il mio cielo è di sorridere a questo dio che io adoro allorché egli vuole nascondermi per provare la mia fede quest'ombra non lo lascerà più e persisterà fino alla morte che avverrà un anno più tardi nonostante ciò e la vive questa notte come l'ultimo combattimento l'occasione di provare la sua irriducibile fiducia in dio l'olocausto di provare proprio rifiutando di cedere a questa paura della nulla moltiplichi i suoi atti di fede con ciò volendo significare che lei continua a credere anche se quando il suo spirito è invaso da obiezioni della fede questo combattimento è stato doloroso che ella ha sempre manifestato il suo desiderio di essere attiva e di fare molto bene dopo la sua prova morte a partire dall'86 la sua richiesta di madre Maria Gonzaga tornata a priori il 21 marzo dello stesso anno viene affidato alle preghiere di Teresa un secondo anno missionario padre Adolf Rulland ordinato prete il 28 giugno del 1894 il sacerdote parte come missionario in Cina la sua corrispondenza epistolare con i suoi fratelli spirituali è l'occasione per Teresa di sviluppare la sua conoscenza della santità nel settembre dell'86 Teresa manifesta interesse a perseguire la sua vocazione attraverso i percorsi solitamente molto distanti un dall'altro vuole provare a essere nello stesso tempo missionaria martire prete dottore della chiesa legge allora gli scritti di San Paolo nella prima lettera ai corinzi l'ino della carità al capitolo X la illumina profondamente con un fulmine che attraversa il senso profondo la sua vocazione gli appare d'improvviso la mia vocazione infine l'ho trovata la mia vocazione è amore in effetti la vocazione della carità ingloba tutte le altre e dunque Teresa che risponde a tutti i desideri di Teresa e dunque questa che risponde a tutti i desideri di Teresa ricopera più passaggi il testamento di Tofani Bernhardt nel gennaio del 97 Teresa scrive credo che la mia corso ormai non sarà più molto lunga tuttavia nonostante l'aggravamento della condizione della malattia durante l'inverno Teresa riesce ancora a collaborare con le altre carmelitane mantenere il suo posto all'interno della comunità con la primavera di attacchi di emesi i forti dolori al petto e gli sputi di sangue divengono quotidiane e Teresa si indebolisce l'aprile del 97 subisce i contracolpi nel caso Diana Vaughan con tale nome era stato pubblicato nel 95 un volume di memoria dove si raccontavano asserite frequentazioni personali agli eventi satanisti era seguito poi l'annuncio della conversione dell'autrice con versione attribuita alla stessa ispirazione di Giovanna d'Arco Teresa colpita come molti cattolici da questa testimonianza esprimere la sua ammirazione in una preghiera unita a poche righe di accompagnamento dalla composta per Diana Vaughan madre Agnese aggiunse alla lettera anche una fotografia di Teresa che la raffigura mentre era recita nel ruolo di Giovanna d'Arco da riguardare perché Teresa aveva anche scritto nel 96 una piccola opera di teatro ispirata proprio alla conversione di Diana Vaughan che sostiene di vivere nascosta si presentava come intermediario presso la stampa un certo Leon Taxil già era noto anticlericale il quale si dichiarava anche egli convertito alla fede cattolica tuttavia già a partire dal 96 la gente aveva cominciato a dubitare sull'autenticità di quanto sopra Leo Taxil annuncia allora per il 19 aprile del 97 una conferenza congiunta con le misteriose giovane autrice delle memorie nel corso di questa conferenza pubblica egli rivela che Diana non era mai esistita e che l'intera vicenda era stata architettata per ridere la crudeltà la credulità dei cattolici coloro che assistono la conferenza sono scandalizzati mentre il Carmelo si apprenderà questa notizia solo due giorni dopo il 21 aprile il 24 verrà a sapere che la foto che la rappresenta come Giovanna Dark è stata proiettata nel corso della conferenza il vive l'episodio come un'umiliazione e una prova soprattutto in un periodo in cui già tormentata dai dubbi il giorno in giugno madre Maria Gonzaga le chiede di proseguire per la redazione delle sue memorie così gli accade di continuare nella sua scrittura nel giardino questa volta sulla sede di infermo che era già stato utilizzato da suo padre nell'ultima della sua malattia e ceduta in seguito al Carmelo a partire dal 8 luglio del 97 Teresa lasciò definitivamente la sua cella dell'infermeria nel monastero e lì resterà ancora per 12 settimane fino alla morte il 17 luglio fino alla sua morte il 17 luglio confida sento che sto per rientrare nel riposo il cielo a fare del bene sulla terra sì voglio passare nel mio cielo a fare il bene sulla terra a partire dal 29 settembre del 97 la sua agonia ricomincia passo un'ultima notte difficile e la sua sorella sorella e con sorelle chiaramente perché le sorelle erano le stesse con sorelle perché erano lei e altri due quindi le sue due sorelle veramente di sangue che erano allo stesso tempo anche con sorelle al mattino dice loro e l'agonia allo stato puro senza neppure un minimo di consolazione domanda quindi di essere preparata spiritualmente a morire ma temere di consacra la rassicura dicendole che essa non ha mai mancato di praticare l'umiltà nella sua preparazione era dunque fatta Teresa riflette un istante e poi risponde qui il me sembl che je n'ai jamais perché che la verità ho già compris l'umilté du corps sì mi sembra che io non ho mai cercato che la verità sì ho compreso l'umiltà del cuore ui era vabbè Teresa muore il 30 settembre del 97 alle 19 e 20 essendo che ormai siamo a 51 minuti leggo soltanto la fama della santità dopodichè poi leggeremo il processo di beatificazione e di canonizzazione della santa e poi sul perché è diventato dottore della chiesa e poi sul sul diciamo su alcuni scritti autè su alcuni scritti vi dico già anzi appena lo leggiamo vi faccio bene per riassunto vi dico che alcuni scritti sono alcuni pensano siano autentici scritti proprio da santa Teresa e alcuni no non ci fermiamo però su questo punto dicevamo il primo ottobre il primo il corpo venne esposto nel coro del Carmelo dietro le grate davanti al feretro sfilarono fino alla domenica sera parenti amici e fedeli facendo toccare il corpo di Teresa rosario e medaglie la mattina del 4 ottobre e giorno in cui entrò in alcuni a santa Teresa di Gesù un carrofun betrenato a due cavalli conduce la salma al nuovo cimitero delle carmelitane i funerali di Teresa sono celebrati il 4 ottobre del 97 la presenza della famiglia di alcuni amici e carmelitane alla piccola cerchia di familiare aveva amato sor Teresa dalla sua morte alcune consorelle avrebbero fatto proprio l'opinione di una di esse non c'era niente da dire su di lei era molto gentile molto modesta non la si notava non avrebbe pensato ad una sua santità una giovane carmelitana viene sepolta nella più grande discrezione un piccolo chicco di grano sono caduti in terra e appena morto la storia avrebbe potuto fermarsi qui ma la grande avventura della più grande santa dei tempi moderni non è che all'inizio e usanza nei carmelitani che le digerono una circolare sulle suore decedute che delinei brevemente la loro vita di diffondere nei carmeli sotto la responsabilità della preora madre Maria de Gonzaga madre Agnese prepara un libretto che raccoglie numerosi scritti fra cui due quaderni di ricordi redatti da Teresa alcune poesie e altri scritti che le intitoli era storia di un'anima al posto tale circolare il libretto stampato in duemila copie è diffuso fra i carmeli e presso i parenti del carmelo e presso qualche personale ecclesiastica dei vescovi dei sacerdoti e dei superiori religiosi scrivono la loro ammirazione al carmelo questa edizione sarà esaurita a Pasqua del 99 e numerose riedizioni si succederanno in passaparola funziona bene il passaparola funziona bene una persona legge la storia di un'anima e se ne è sconvolta e se non ribaltata prega la piccola suor Teresa di Gesù Bambino ed è esaudita scrive al carmelo racconta il fatto domanda un ricordo della giovane suora presta il libro e rende partecipi del suo entusiasmo molti altri le lettere indiriziate al carmelo sottolineano l'effetto della storia di un'anima sui lettori la sua influenza sulla chiesa è stata determinante una straordinaria devozione popolare verso quella che già viene chiamata la santa accelera l'introduzione della causa di beatificazione e ora poi la beatificazione la canonizzazione e come è diventato dottore della chiesa lo vedremo nella nella terza parte del video quindi a mio studio eccoci tornati in studio abbiamo detto che di santa Teresa di Lissia abbiamo detto tantissimo abbiamo parlato più di 55 minuti anzi adesso andiamo a vedere invece la beatificazione e la canonizzazione e la successiva nomina a dottore della chiesa per la beatificazione all'epoca erano necessità due miracoli per la venerabile Teresa di Lissie la chiesa cattolica approvò nel 1923 due guarigioni spontanee la prima riguardò Sor Luisa di San Germano guarita da ulcera la seconda la guarigione riguardante Charles Anne un seminarista di 23 anni che era in fin di vita a causa della tubercolosi aveva chiesto l'intercessione di Santa Teresa in seguito il medico che lo seguiva testimoniò i polmoni distrutti e danneggiati sono stati rimpiazzati da nuovi polmoni che esplicano le loro normali funzioni e stanno facendo rivivere l'intero organismo la canonizzazione invece avvene il 17 marzo del 1925 Papa Pio XI attornato da 23 cardinali e 250 vescovi procedete nella basilica di San Pietro a Roma la canonizzazione di Santa Teresa fra i 50.000 fedeli giunti a Roma soltanto 5.000 poterono entrare in basilica e ascoltare il Papa a pronunciare la formula solenne che dichiarò Santa Teresa di Lisier a solo due anni della sua beatificazione santa per passare dalla beatificazione alla canonizzazione di un viato e al tempo di processo della canonizzazione di Santa Teresa erano richiesti nuovi miracoli diversi da quelli della beatificazione una volta conclusi in senso affermativo sono con il relativo decreto del Pontefice gli accertamenti sul carattere miracoloso degli eventi adotti e sulla loro ascrivibilità all'intercessione della beata Teresa e la canonizzazione poter essere proclamata dal Papa che con tale atto autorizzò e raccomandò il culto della nuova santa nella chiesa universale i miracoli per la canonizzazione furono due come abbiamo detto una a una giovane sora appartenente alle figlie alle piccole figlie delle Sacri Cuori di Gesù di Maria affetta da tubercolosi Gabriella Trimusi e l'altra Maria Pelmans di Schaberg in Belgio che soffriva dal 1919 di una tubercolosi polmonare che si era diffusa nell'intestino e aveva chiesto intercessione Santa Teresa pregandola sulla sua tomba e così avvenne il 19 ottobre del 97 Giovanni Paolo II trovato una puntata anche a lui dedicata dichiarato Teresa dottore della chiesa il 2015 sono 36 santi che nella storia della chiesa hanno avuto tale riconoscimento a Santa Teresa di Lisi e quella che lo ha avuto avendo terminato la sua esistenza sulla terra in età più giovane tale decisione è stata accolta con grande esusiasmo nell'ambito della chiesa ma non sono mancate obiezioni che si sono appuntate in particolare sull'esserita mancanza dello spesso ideologico della dottrina teresiana rilievi confutati da altri studiosi cattolici che hanno difeso le ragioni invece tra questi ultimi può segnalarsi in particolare che la filosofa carmelitana Cristina Dombener che nel suo libro Ecco Creante 2008 si riferisce in questi termini ai critici della scelta qui in commento sono coloro che incapaci di superare la barriera del linguaggio dell'epoca e l'immaginario di Teresa non sanno toccare il fondo roccioso di quella che ella stessa chiamò la scienza dell'amore dopo allora aver conosciuto questa grandissima santa la preghiamo anche più incessantemente e ora i santi della settimana giustamente no? siamo nella 25esima settimana del tempo ordinario chiaramente partiamo dal lunedì successivo prima settimana del salterio il 19 San Gennaro qui in campana dovrebbe essere se non altro memoria poi il 20 Santi Andrea Kim Taegon Paolo Chong Hang San e compagni martiri memoria il 21 21 settembre San Matteo Apostolo ed Evangelista patrono della nostra città di Salerno bellissimo il salmo per tutta la terra si diffonde il loro annuncio che poi è tratto dal dal salmo 18 i cieli narrano la gloria di Dio l'opera delle sue mani annuncia il firmamento il giorno al giorno ne affide il messaggio la notte alla notte ne affide il racconto non solo linguaggio ma non solo parole così solo del suo nome per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e i confini del mondo la sua voce e poi giorno 22 Sant'Emerita e San Maurizio il 23 San Piotta Petrelcina e il 24 Beata Maria della Mercede il 25 invece quindi seiesima domenica del tempo ordinario San Sergio di Rodonez seconda settimana del salterio quindi come sempre vi ringrazio dell'ascolto e di averci fatto compagnia anche questa settimana lo dico io a voi spero che quello possate dire a me questa qui era l'ottava puntata che si conclude poi ci saranno altre due puntate la puntata 10 quella dedicata alla Madonna poi verranno annunciati i santi della prossima stagione i santi della prossima stagione quindi viva Santa Teresa di Lisie essendo che non lo diciamo mai viva Gesù viva Maria e viva San Matteo mi raccomando iscrivetevi ai canali social e noi come dicevo ci vediamo non mercoledì prossimo perché San Matteo ci vediamo mercoledì 28 settembre ciao ciao